ho aperto instagram finalmente ho creato un profilo su instagram nel quale mi potrete seguire quindi chiunque avesse instagram mi può seguire mi può aggiungere mi trovate come conoscitore.italiano ripeto conoscitore.italiano quindi il link è www.instagram.com slash conoscitore.italiano dovendo fare una ricerca invece all'interno del sito stesso se cercate conoscitore italiano esce sia una fan page che è stata creata da un tra virgolette fan che anche il mio profilo ufficiale su instagram che appunto ha come foto quella di me in formato fucsia va bene con il colore fucsia addosso quindi chiunque avesse instagram finalmente mi può seguire all'interno di questa pagina di questo profilo inserirò qualche foto magari se mi rego in qualche posto in qualche luogo e ho intenzione di farmi qualche immagine qualche foto qualche scatto lo condividerò chiaramente all'interno del sito stesso oppure anche foto che comunque ritraggono momenti di vita quotidiana va bene quindi ripeto se volete mi aggiungete mettete il mi piace alle mie foto mettete un like chiunque volesse mi aggiunga su instagram va bene io vi aspetto abbraccio aperte non vi preoccupate qualsiasi persona che voglia può finalmente aggiungermi perché ho creato instagram perché molte persone mi hanno chiesto perché non ti crea un account su instagram in questo modo tieni anche la tieni anche i contatti con i tuoi tra virgolette fan e ammiratrici ok va bene lo faccio la greo e così l'ho creata va bene grazie dal vostro leandro conoscitore italiano di youtube italia è tutto iscrivetevi al canale mi raccomando diffondere il video chiunque a instagram conoscitore punto italiano www.instagram.com slash conoscitore punto italiano questa è la mia pagina sola e ufficiale dove io sono colui che la utilizza e basta ciao al prossimo video da leandro www.instagram.com